A Caltanissetta si torna a parlare del caso Cile, tra memoria e attualità. Sì, è una vicenda che è accaduta 40 anni fa. 40 anni fa ci fu, ricorderanno gli anziani, il colpo di Stato in Cile in cui morì il presidente costituzionale Salvador Aiente che era stato protagonista di un'esperienza politica originale cioè un incontro tra socialisti, in parte cattolici cioè di una sinistra non proprio tutta marchesista era una presenza importante per il cambiamento finalmente nell'America Latina con tutti i problemi che noi conosciamo, la ricchezza concentrata in poche mani l'esperienza di Aiente durò poco perché l'America intervenne con i suoi servizi segreti aveva interesse per il rame cileno e sostanzialmente si fu il colpo di Stato di Pinochet una pagina vergognosa Cosa è successo? È successo che a Caltanissette questo punto geometrico della Sicilia, remotissimo quell'episodio ebbe una sua risonanza presso un gruppo di giovani i giovani del Consiglio Diocesano di Azione Cattolica io allora ero il presidente diocesano e ci eravamo educati dopo il congiglio ad avere un'attenzione particolare il rapporto nuovo tra fede e politica soprattutto all'impegno del cristiano per come dire la promozione dell'uomo ci sembrò che la vicenda cilena fosse veramente speculare di un un modo nuovo che però attendava certi interessi di porre il rapporto anche tra fede e politica i giovani del Consiglio Diocesano capeggiati dal vice presidente che era il dottore Antonio Virone che sarà presente all'incontro di domani alle 17.30 nell'auditorium Polo VI della parrocchia San Pietro presentarono una loro mozione e chiesero che prendessimo pubblica posizione contro il colpo di stato di Pinochet e dessimo la solidarietà al popolo cileno questa proposta venne accolta quasi all'ananimità con qualche perplessità di qualche assistente di Ocesano l'Azione Cattolica aveva alcuni assistenti allora l'assistente generale della Monsignor Stella poi c'era padre Tuminelli che era assistente dei giovani che fu anche d'accordo insomma questo manifesto lo si stampò lo si stava per attaccare quando venne dal vescovo del tempo Monsignor Francesco Monaco l'ordine per Endorio di bloccarci io non ero a Caltanissetta ero a Roma perché partecipavo all'Assemblea Nazionale dell'Azione Cattolica mi telefonarono io risposi obbediamo al vescovo quindi un'espressione anche tutto sommato di maturità della Chiesa non volevamo creare un caso ma il mio ritorno se ne parla quando sono tornato perché ho scritto una lettera al vescovo molto dura nella sostanza anche se rispettosa nella forma in cui rivendicavamo come laici il diritto di partecipare a pieno titolo alla vita della Chiesa con una nostra peculiarità una nostra modalità cioè una Chiesa non clericale ma che finalmente sulla linea del Congilio si aprisse alla partecipazione dei laici fu un momento di tensione ma fu un momento anche bello perché segnò un passo avanti nella storia del laicato nisseno è come dire una maturazione che metteva in evidenza come fosse più arretrato per certi versi il clero che il laicato si capisce non tutto il laicato era su questa posizione non tutto il clero era sulla posizione anche avanzata avanzata o meno avanzata però creiamo un dibattito oggi lo abbiamo voluto rievocare senza polemiche evidentemente in modo molto costruttivo per fare un po' il punto sull'evoluzione del laicato da allora ad oggi per vedere fino a che punto insomma anche questa Chiesa è capace di generare novità questa è anche la linea pastorale del nostro Vesco evidentemente novità e soprattutto dia compiti di partecipazione attiva ai laici quindi una Chiesa nuova Papa Francesco ci sta dando ragione ma ci ha dato ragione anche la storia perché poi tutti condannarono questo colpo di Stato solo che allora si ebbe paura quelle cautele quelle preoccupazioni quel modo diplomatico quel sopire e tacere tacere e sopire di manzoniana memoria che è una modalità clericale si capisce molto discutibile e grazie a tutti